Buona settimana a tutti e buon mercato a tutti è ormai la nostra parola di riconoscimento perché in questi giorni continuano le chiacchiere e ci sarà anche modo di rispondervi alle vostre gradite osservazioni ecco perché questa nuova rubrica mi piace molto e in coda a questi nuovi flash sul futuro delle grandi squadre del calcio italiano eccovi anche alcune risposte ai vostri commenti ma veniamo all'oggi ed è un oggi molto confuso su tutti i fronti perché il mercato è ormai vicinissimo però troppe voci, poca sostanza e c'è il rischio anche di tanta confusione ecco perché oggi mi piace parlarvi di un giocatore che in questo momento ha dato grandi prove ha dimostrato di essere il futuro del calcio italiano di centravanti così non se ne vedevano da tempo perché Vlaovic è sicuramente l'oggetto pregiato la sua carriera è breve ma intensa ci dà tante tante protezze però anche Gianluca Scamacca è un attaccante che sa farsi valere in area di rigore con grandi colpi e il Milan ne sa qualcosa ad esempio con quel bellissimo gol ecco perché l'attaccante del Sassuolo è nel merino di tutti dell'Inter, della Juve, del Milan questa è una vicenda che in questo momento può apparire anche di seconda importanza perché il Sassuolo sinora ha detto che non vuol cederlo però per un motivo o per un altro le grandi del nostro calcio guardano a lui e si sta partendo con dei prezzi sicuramente rilevanti anzi per venire al Milan i primi a farsi sotto sono stati proprio loro i dirigenti rossoneri non a caso Ricky Massara lo ha visto crescere a Trigoria quando era appunto alla Roma ecco perché ne apprezza le qualità, ne apprezza le doti però il prezzo è troppo alto e il Milan dopo un iniziale innamoramento si era un po' distratto anche perché sinceramente a Genova l'anno scorso Scamacca ha avuto poche chance sembrava dovesse andare alla Juve a gennaio poi il momento clou è stato quello dell'estate scorsa in quel finale che ha visto la Juve obbligata a scegliere un centravanti proprio dopo l'uscita di Cristiano Ronaldo e in quelle ore frenetiche Allegri aveva espresso un parere molto chiaro voglio Scamacca Chirubini è andato da Carnevali e in quel caso la risposta è stata no, non lo vendo solo a titolo definitivo e quindi poi c'è stata la virata su Chien ma ora a Torino hanno bisogno di un attaccante ecco perché il suo nome torna in attualità come quello di tanti altri e per venire al Milan Ibrahimovic non è eterno Giroud non è sempre abile e arruolato ecco perché con pellegriche e fatica a trovarsi uno spazio il Milan deve guardare al futuro e questa candidatura di Scamacca sicuramente deve porre molte attenzioni come quelle per il difensore perché è chiaro che il Milan fra tutte le candidature, quelle di Botwan, di Bremer, di Milenkovic ci sono tutti nomi che comportano investimenti importanti io torno a dire che quando vedremo la luce sul difensore del Milan quando innanzitutto si capirà se Romagnoli rinnovo meno con la società di Vialdo Rossi con questo bivio all'orizzonte un conto è cercare immediatamente il sostituto del difensore romano un altro è prendere un quarto perché così sarebbe con Chier che comunque tornerà quindi nella visione del Milan è molto probabile che il prescelto sarà un giovane quindi con il possibile rinnovo di Romagnoli magari abituiamoci l'idea che spunti un nome nuovo quello di un giovane, quello di un ragazzo pronto a conquistarsi una maglia è un po' come quello che hanno fatto Calulu in questo momento anche Gabbia che cerca un suo spazio vitale è difficile invece il ritorno di Caldara perché Caldara comunque ha bisogno di giocare e a Venezia evidentemente sta trovando uno spazio che da tempo aveva perso in casa Juventus ovviamente la questione dell'attaccante l'abbiamo già detto è rilevante però c'è anche il resto e il resto ovviamente parte dalle uscite e qui siamo alle note dolenti perché Ramsey sì i suoi agenti hanno parlato con i vertici bianconeri ma al momento non si profilano offerte ritenute interessanti da giocatore gallese e questo evidentemente rallenta i lavori anche Arthur avrebbe bisogno di andare a giocare in maniera continuativa proprio per ritagliarsi uno spazio anche nazionale il brasiliano comunque anche lui nicchia e quindi in questo momento in casa Juventina c'è poca carne a cuocere a meno che non si guardi al futuro di Dejan Kuluseski che a sua volta ha dei problemi perché vorrebbe giocare di più la Juve lo accontenterà bisogna vedere anche quali sono le condizioni di recupero di Federico Chiesa io ho l'impressione che Kuluseski comunque dovrà aspettare a Torino di capire se effettivamente Allegri ha bisogno o meno di lui anche i malanni di Di Bala tengono in ansia l'allenatore quindi alla fine potrebbe anche essere che la Juve decida di tenersi Kuluseski di non sacrificarlo anche perché nonostante le ombre il talento si nota poi il bilancio evidentemente delle sue esigenze ma la Juventus deve avere anche la forza di agire con lucidità in questa fase faccio un esempio Luca Pellegrini due mesi fa sembrava fuori dal progetto invece sul campo ha dimostrato di essere un giovane di grande prospettiva e quindi la Juve adesso se lo tiene stretto e fa bene anche perché in Serie B stanno nascendo altri giocatori si stanno mettendo in luce giocatori di prospettiva come Fagioli come Ranocchia sono anche Touré del Pisa quindi è una miniera d'oro quella juventina che evidentemente merita, merita, grande attenzione in attesa di cosa può capitare a gennaio Marotta e Ausilio stanno sicuramente ponendo altrettanta attenzione al capito dei rinnovi una campagna sinora direi travolgente perché con le difficoltà della società nel senso che la liquidità è quella che non era semplice dare tanta continuità con giocatori di primissimo piano tutto è cominciato con bastoni poi si è seguita questa strada anche con Barella e con Lautaro Martinez giocatori di grandissima prospettiva ecco perché adesso il ferro va battuto su Brozovic ci sono segnali di grande ottimismo anche se ancora non c'è stato l'incontro conclusivo quello decisivo la distanza è ancora rilevante invece è andato tutto bene la scorsa settimana nel vertice per Federico Di Marco un altro giovanotto che in nero azzurro sta dimostrando di essere uno dei più importanti petali per le prossime stagioni e quindi dai 600 mila euro attuali il suo gente riso ha strappato un aumento a 2 milioni un progresso significativo per un giocatore cresciuto nel vivaio e questo non dovrebbe però essere l'ultimo atto perché dietro l'angolo ci sono anche i colloqui con De Vrij con l'olandese lui è in scadenza nel 2023 e poi ci sarebbe anche il capitolo Skriniar insomma questa politica di fidelizzazione sta proseguendo con grande, grande propositività da parte della dirigenza e i giocatori evidentemente stanno recependo il messaggio e a mio giudizio il rinnovo più difficile resta oltre a quello di Brozovic in questo momento anche quello di De Vrij perché non mi sorprenderei se a fine stagione l'olandese dovesse cambiare maglia e sotto questo profilo invece attenzione a Perisic che dopo un'iniziale rigidità adesso sta dimostrando attenzione alle sirene proprio nero azzurre quindi quest'Inter che a gennaio magari farà pochino in realtà sta mettendo tanta, tanta carne a cuocere perché tutte queste conferme sono evidentemente la dimostrazione che Inter vuol dire fiducia Premetto che ci organizzeremo meglio per le prossime puntate però io vorrei rispondere a tutti, citare a tutti voi comincio con i primi della lista solo a casaccio ringrazio Cosimo Natale, Fabio Fatone, Giovanni Allegrini, Gianluca c'è anche quel flanz che mi sa di un nickname un po' fantasioso che fa anche dell'ironia su tutti i nomi spesi in queste settimane in questi mesi come se noi ci divertissimo a brancolare nel buio io credo che in realtà non sia proprio così poi magari c'è chi si diverte io parlo per me, parlo anche per Carlo, per le gatti proviamo a essere scrupolosi sicuramente non c'è la perfezione perché molto spesso il mercato è fatto anche di strade cambiate all'improvviso e non sempre per volontà della società quindi ci sono degli obiettivi che poi sfuggono altri che non sono più necessari quindi io credo che per esempio venendo al Milan la politica societaria, quella dell'accortezza economica sia dirimente perché molti giocatori piacciono e noi ve li citiamo proprio perché piacciono e poi però costano troppo o meglio il rapporto qualità prezzo non viene giudicato all'altezza dei programmi della proprietà e questo è un elemento che per certi versi ha portato delle rinunce ma alla fine io credo che la barra sia abbastanza dritta e abbastanza soddisfacente nell'ultima settimana vi ho parlato di Luis Enrique un talento brasiliano della Fluminense e anche su questo nome evidentemente ci possono essere anche degli scetticismi perché bisogna vedere innanzitutto se arriva a gennaio è giovane non costa molto si sta mettendo in luce quindi rientra nell'identikit generale del Milan poi non è detto però che sia questa la scelta primaria di sicuro il Milan in quel ruolo sta cercando perché Senemaker è sicuramente un interprete molto molto utile a Pioli ha delle caratteristiche diciamo da giocatore universale ma non è l'ala che va a sfondare su quella fascia e Luis Enrique invece da brasiliano è un mancino che ama partite da destra in questo caso il paragone con Kakà è semplicemente per far capire che è un giocatore ancora da scoprire totalmente perché quando arrivò Kakà al Milan era una sorta di oggetto sconosciuto e poi ha trovato la sua posizione migliore in campo ma è chiaro che il Milan per poter guardare un futuro ambizioso deve puntare su giovani che siano anche conosciuti solo in parte e Luis Enrique fa parte di questa categoria credo, spero di essere stato esauriente e mi auguro la prossima volta di essere anche più circostanziato nel rispondere a tutti voi e mi fa piacere comunque inaugurare questo scampolo di rubrica che è più coinvolgente ancora più coinvolgente anche per me buona settimana a tutti e buon mercato a tutti